Attimi di paura a campagna in località Galdo poco dopo le 13. Un'auto nell'atto di effettuare una svolta si è ribaltata dopo essere stata tamponata da una vettura che stava sopraggiungendo. All'interno dell'auto una donna che fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Sul posto gli operatori del soccorso della Croce Rossa e i carabinieri della locale stazione che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente. Grazie.